Buongiorno a tutti, sono Maura Bergomi, mi occupo di ricerca e selezione all'interno di Umana S.p.A. Umana è un'agenzia per il lavoro che opera da 25 anni nel settore delle risorse umane. Siamo presenti con 140 filiali su tutto il territorio nazionale e la nostra presenza capillare ci consente di essere un valido interlocutore per le aziende del territorio che cercano personale. Il nostro compito e il nostro ruolo all'interno di questo percorso di alta formazione è quello di soddisfare i bisogni delle nostre aziende clienti presenti sul territorio. Ci occupiamo e ci siamo occupati di fare incontrare quindi domanda e offerta. Abbiamo selezionato per le nostre aziende clienti i migliori profili dei ragazzi presenti all'interno dei corsi Galtus, ma abbiamo fatto di più. Abbiamo cercato anche di soddisfare l'esigenza dei corsisti, che per noi diventano degli studenti lavoratori in percorsi di apprendistato uguale. Anche per gli studenti il passaggio da diventare un semplice studente allo studente lavoratore porta con sé degli enormi vantaggi. Sicuramente avranno dei contratti di lavoro pienamente tutelanti, avranno una retribuzione commisurata al loro percorso che faranno all'interno dell'azienda, avranno un tutoraggio di umana sempre presente, oltre al tutor aziendale e al tutor di Galtus. Inoltre avranno la possibilità di un ulteriore supporto nella fase successiva al percorso in apprendistato uguale.